Massimo Mazzucco di nuovo, buongiorno. Eccomi qua. Perché a Roma, ma in Italia, si punta molto il dito sulle categorie, no? E i tassisti, e i complottisti. Scusa Davide, una cosa sola. Prima di collegarmi ho attaccato gli ultimi 5 minuti, ho sentito che stavi bestemmiando come un turco praticamente. Bestemmiando non è nelle mie pratiche. Ne dico di ogni, ne dico di ogni. No, ma non ho capito con chi ce l'avevi. Con Mario Draghi, no, sì, anche con Mario Draghi. Mario Draghi c'è sempre, va sempre bene. No, con Monti, con Monti. Governo verso l'Incanzi. Allora, il male assoluto è Berlusconi nell'immaginario, per una parte di immaginario è abbastanza consolidata. E il bene è altrettanto. Berlusconi, viva Silvio, abbassa Silvio. E oggi mi dico, mi chiedo, come mai la politica non insorge rispetto a questa indicazione che Giorgio Napolitano con un espediente assolutamente tecnico, perché lo fa assinatore a vita, perché lui possa diventare poi primo ministro, no? Primo ministro. Parlo di Mario Monti. Mario Monti è i Bildelberg. Mario Monti è il nuovo ordine mondiale. Allora, Super Mario, leggo. Il duro che piace ai mercati. Alla Unione Europea con il Cavaliere Condalema. Poi tu senti Antonio Caldo, del messaggero, e ti dice, no, no, Gramiccioli, ma io l'ho criticato. C'era proprio nel titolo. No, non è una critica. Non sei Super Mario, mi dà molto del gioco, del videogioco. Poi non interviene in una discussione nessuno. Leggo. La minaccia degli ex AN. Senza voto sarà scissione. Poi. La Lega si sfila dalle intese. Bossi, bello stare all'opposizione. PD e Terzo Polo accelerano. Noi, il nuovo governo, già da lunedì, con Mario Monti. Il governo di transizione, immagino. Ma sì, ma Mario Monti deve essere... Allora, in previsione proprio di una tornata elettorale, di una sessione elettorale più distinta, più partidica, più programmatica, più ideologica. Oggi le posizioni devono essere chiare, proprio rivolte al futuro. Mario Monti... Allora, l'indicazione di Mario Monti, io la boccerei, spiegando che Mario Monti rappresenta tutti quei poteri che hanno devastato l'Italia, compreso Berlusconi. Berlusconi e Mario Monti sono le espressioni di un unico potere. Scusami se non ti offendere. Mi stupisco che tu ti stupisca a questo punto. E però noi facciamo... Siamo di fronte a un semplice meccanismo di sostituzione delle pedine. Anzi, in questo caso, l'allenatore viene messo da parte e il presidente della squadra scende direttamente lui in campo a dire cosa bisogna fare. Però io e te ci abbiamo una fortuna, amico mio. Non vengono capiti. Tu questa cosa, secondo me, negli anni non l'hai mai capita bene perché non ti è interessata. Però sai qual è la tua fortuna? È un po' quella mia. Che noi facciamo ancora le cose con passione, credendoci. E quindi ci incazziamo ancora. Lo dicono anche a me spesso. Mi stupisco che tu ti stupisca. È un difetto che amo avere e amo condividere con te. Quello te lo dico benevolmente. Ma Michael Moore, proprio l'altra sera in televisione, quando gli dicevano cosa pensa che Obama prenderà posizione, ha detto che ormai è chiaro a tutti in tutto il mondo e nell'Occidente che tutti i politici sono comprati e sono in mano dei banchieri e dei grandi economisti. Quindi è perfettamente inutile accanirsi contro l'uno o contro l'altro a favore dell'uno o a favore dell'altro. Siamo proprio i stupidini che corrono dietro alle marionette che ti mettono davanti. Una volta che hai capito chi tira i fili o cominci a guardare lì, oppure sei un fesso tuo e ti meriti di essere preso in giro. Da qualunque parte arrivi al nuovo spettacolo. Questa è la mia posizione. Ne approfitto qui, Carlo. Ne approfitto oggi che c'è il grande Mazzucco per salutarlo e per chiedergli, riferimento a Monti, ma che cosa è davvero... Vabbè, è uguale dai Bildelberg, sì, abbiamo capito cosa vuoi dire. Mazzucco, cosa sono i Bildelberg? Avevo già risposto... Al volo glielo chiedo io per il nostro amico ascoltatore che è un suo fan. Vuoi che ti dia una risposta che sembra Vigliac, ma non lo è? Non lo so. Perché so solo quello che mi dicono i giornali e siccome i giornali sono controllati da quelli che vanno dai Bildelberg, non posso fidarmi di quello che mi rivelano i giornali sui Bildelberg. È troppo facile. Benissimo. Allora, ripeto, Giancarlo Piras, che saluto con affetto, la puntata del... Noi, sfrutto questa opportunità, noi abbiamo un grosso privilegio, quello di fare il lavoro, secondo me, più bello del mondo. Farlo così, sei voce, non sei viviso, non te conosce bello, bello perché è bello questo. Parliamo a tanta gente, siamo gli amici che ogni giorno condividono con altri amici esperienze, emozioni, condividendo o no punti di vista, idee. Quindi noi faremo sempre meno cose fuori da Overture, sempre più cose all'interno di Overture. Il 18 novembre è una puntata speciale sulle scie chimiche che si conterrà all'interno della nostra trasmissione, dalle 7 alle 10. Quindi, speciale scie chimiche, il 18, quindi tra 9 giorni, tra 8 giorni, la prossima settimana, sarà qui all'interno di Overture, sulle nostre frequenze, radio televisive, attraverso il sito www.radiois.it. Quindi non c'è un luogo diverso dalla radio. C'è un dibattito in studio che fai? Sì, no, tra l'altro spero che possa partecipare anche lei, Mazzucco, la invito da adesso. Quindi se dici certo, c'è Mazzucco, Paolo Attivissimo, Rosario Marcianò, Corrado Penna, Luigina Marchese, Giulietto Chiesa. Mamma mia. Perché? No, no. Ah, tanta cena. No, diciamo, mamma mia, ciò ti fa. Sto a fare i tuoi, Davide, dopo. Eh, beh, beh, ma ognuno dite la vostra, per cui questo è sempre. Allora, ritornando ai messaggi, ma quanto costa il progetto SCIE? E nella solita logica malata, chi ne trarrebbe i profitti? Un saluto a tutti dal grande prof. Il prof legittima sempre i suoi escursus, le sue curiosità, eh? Chi ne trarrebbe i profitti? Sì. E nella logica malata, chi ne trarrebbe i profitti? Nella risposta, nel modo più ampio, è il complesso militare e industriale. Cioè, i soldi, l'agenzia DARPA, che è l'agenzia che praticamente è incaricata dal 58, credo, di gestire tutto lo studio, l'elaborazione, e l'invenzione di nuove tecnologie, di nuovi progetti bellici per il Pentagono e che ha praticamente budget illimitati, non è sotto il controllo diretto del congresso, quindi può fare praticamente quello che vuole. È un'agenzia dove addirittura lo slogan è qui anche i fallimenti sono considerati un passo in avanti, quindi non preoccupate. Praticamente è un laboratorio di scienziati pazzi, nel senso buono, che da 50 anni portano avanti tutti i progetti più pazzoidi, che vanno dai più ridicoli in assoluto ed inutili, come pubblicava oggi, ad esempio, il robot umano che ti aiuta a portare i pesi nel deserto ed è capace di camminare per ore e porta 200 kg senza stancarsi mai, fino invece ai veri progetti, appunto come quello che diede origine alla necessità delle scienze chimiche, che si chiama progetto VTI-PRE, che è un progetto di radaristica tridimensionale che ti permette di combattere una qualunque battaglia in tutto il mondo vedendo il campo di battaglia in tre dimensioni. Cioè bisogna entrare nell'ottica di questa gente per capire il cui progetto, perché chiaramente il fattore climatico è, se non altro, come minimo secondario, se non ininfluente del tutto. Questa è la scoperta che sto arrivando, che è pazzesca. Cioè la storia della modificazione climatica che viene usata adesso, la scusa che viene usata adesso, che sta diventando mainstream, e cioè che sì, vabbè, dai, lo ammettiamo in fondo, stiamo facendo questo, perché volevamo cercare di salvare il mondo del global warming, è la bugia pietosa che ovviamente viene comoda in questo momento da quando non si possono più nascondere la realtà delle esce chimiche per coprire invece quello che è un abisso, secondo me, dal punto di vista degli investimenti, dei denari e della follia umana in generale. Ci fermiamo per la pubblicità con due messaggi, poi li leggiamo tutti. È tutto normale, ora rassicuriamo i mercati alla gente comune, perderanno ancora più di diritti per stabilizzare un bacio altrettanto speciale da parte nostra, Veronica, e poi Leonardo ti chiede, rispondi dopo la pubblicità, ovviamente Massimo, le esce chimiche rendono sterili i terreni 342-4151-406.